alla riunione del villaggio ci fu un attimo di silenzio poi lo zio Dengu prese la parola perché non iniziamo a fare dei soldi veri se scavassimo una miniera faremmo una fortuna avremmo abbastanza denaro per strade d'asfalto e case in mattoni ci sarebbe energia elettrica per tutti pensateci disse il nonno era rimasto in silenzio per tutto il tempo come l'acqua che in una pentola raggiunge lentamente il punto d'ebollizione ma a quel punto batte a terra il suo bastone facendo sprizzare scintille dal fuoco case di mattoni e strade d'asfalto in cambio della nostra foresta attuano e questa la tua soluzione forse dimentichi che la foresta ci dà tutto fiumi da cui bere pioggia per i nostri campi cibo e medicine legno per le nostre case che cosa saremmo senza di lei e quindi